Nell'ultimo consiglio del 30 ottobre è stato portato all'ordine del giorno un argomento monotematico che riguardava il biodigestore, una situazione abbastanza preoccupante per tutti i cittadini di Vallefoglia, specialmente quelli della vallata più vicina dove presumibilmente si pensa che venga costruito questo biodigestore. Ci siamo fatti un po' da portavoce da parte della cittadinanza per sapere qualcosa di più. Ci viene raccontato perché sono storie che non si sappia nulla ed è impossibile perché esistono dei tavoli politici, degli incontri politici che sono stati fatti con pare cinque sindaci. Alcuni sindaci hanno già preso le distanze da questo progetto e hanno reagito. Anche la cittadinanza è stata avvisata per tempo, mentre non si capisce perché la potenza Ucchielli qua a Vallefoglia non sappia nulla. Noi non ci stiamo, noi non ci crediamo. Non vorremmo arrivare al punto di una decisione da parte della provincia e essere nella situazione in cui non poter fare il passo indietro. Questo non vuol dire che il centrodestra non sia d'accordo né che sia d'accordo alla costruzione di questo biodigestore. Ma ci deve essere una relazione con la popolazione per spiegare che cosa è, che cosa verrà fatto, i pro e i contro. Queste informazioni il nostro sindaco le ha e le ha sicuramente. Non ci crediamo che sia all'oscuro di tutti. Può dire qualsiasi cosa in consiglio, può dirci che siamo aggressivi, ma questa è un'esigenza che la vuole sapere la gente. Noi rappresentiamo la gente di Vallefoglia nel vero senso della parola e ci facciamo da portavoce, ma le risposte non ci vengono mai date e questo ci delude tanto. E dal punto di vista del discorso che i cittadini vogliono sapere è anche nata un'associazione dal nome Diversamente per la tutela e la valorizzazione della Vallata delle Foglia. Ci sono diversi soci fondatori e anche già diversi iscritti. Questo infatti ci dà una buona parte di ragione. La gente vuole sapere, come dicevo, e questa associazione ha preso la distanza dalla politica. È un'associazione apolitica, però con la curiosità di avere queste benedette informazioni. Se c'è già questa mobilitazione da parte della cittadinanza, vuol dire che l'argomento è molto importante. Andrebbe affrontato il prima possibile, se non altro con dei dialoghi, creare anche dei tavoli di lavoro, sì, con queste associazioni e tutti i gruppi consigliari. Proviamo ad avere un dialogo costruttivo e la trasparenza, tanta trasparenza. In merito alla considerazione legata al nostro modo di fare in Consiglio Comunale, siamo tacciati di arroganza e di non presentare mai nessun progetto. Allora, noi abbiamo nei mesi scorsi chiesto di dirottare dei fondi per l'innovazione e per il lavoro. Loro ci dicono che non si può fare, però possiamo dire che i soldi, ben un milione, ci sono per il teatro, che oggi forse è il teatro di bottega che verrà fatto, ma forse di questo oggi non se ne sente l'esigenza. Il sindaco dice che sono sempre stato una persona corretta e trasparente. Allora, in merito alla trasparenza, posso dire che sono parecchi mesi che io ho chiesto all'Unione dei Comuni, il Pian del Bruscolo di cui lui è Presidente, della documentazione in modo ufficiale. Ad oggi non ho ancora ricevuto niente, quindi questo non è un sintomo di trasparenza. Tra l'altro, oltre a questo, abbiamo spinto noi per avere i consigli comunali online per poterli mettere a disposizione della gente il prima possibile. Solo in questo caso, e solamente in questo ultimo caso, oggi è disponibile il Consiglio del 30 ottobre. Negli altri casi è sempre stato un dramma per poterli far mettere online sul sito del Comune. Ci sono voluti almeno 10 giorni. Per quanto riguarda la correttezza, il sindaco mi delude. Vorrei che lui spiegasse bene che le bugie che ha raccontato sul tavolo del lavoro e sul tavolo per intercettare i fondi europei, lo dicesse, le dicesse chiaramente, che non ci sono mai stati nel Comune di Vallefogli in questi mesi questi tavoli, che lui ha sbandierato sia a livello ufficiale dentro il Consiglio Comunale, assieme alla sua vice sindaca Torcoletti e Torcolacci, e nei canali televisivi e a mezzo stampa. Per cui questo modo di fare a noi non piace. Non cerchiamo di fare confusione, cerchiamo di fare chiarezza. E questo è uno dei principi fondanti della minoranza, cioè il controllo. Grazie.